ingiusta le energie irradiate attraverso marcello creti legge la dichiarazione di scetticismo è la più lampante dimostrazione della propria ignoranza effettiva l'evoluto non è mai scettico ma solo desideroso di scavare sino a conoscere la radice di quello che ancora non si sa spiegare per cui lo scetticismo è patrimonio esclusivo dell'ignorante in quanto il sapiente più sa e più sa quanto ancora vi è da sapere per cui esso di nulla dubita ma tutto memorizza cataloga studia cerca per eliminazione di focalizzare inoltre non giudica mai poiché sa quanto ancora deve imparare per arrivare al suo fine unico l'omniscienza è chiaro che chi è scettico lo è o perché non sa o perché con la propria limitata cultura intelligenza non riesce nemmeno a ipotizzare la realtà solo per questo e non può che trincerarsi dietro quella dimensione di carenza manifesta che gli spera giustificatrice della propria ignoranza all'occhio di quelle persone di cui gradisce l'apprezzamento il mediocre l'ignorante e l'ofano viceversa sono convinti che il loro misero bagaglio di cultura sia sufficiente a dargli il diritto di giudicare misurare apprezzare constatare soppesare tutto quello che la loro ignoranza gli impedisce di vedere e di capire ingiusta